Buona vita questa 10.000 signor maschi, gruppo abbondante, 27 gli atleti alla partenza, 25 gli atleti alla partenza, la prima tanta finta, 25 gli atleti alla partenza, 25 gli atleti alla partenza, 25 g, E si piatta sento subito a buon retto, che è un gruppo di momento compatto. E il gruppo si mantiene per il momento abbastanza compatto. Meno 43 al passaggio, viva! E sentiremo suonare la campana a meno 42. E' eccola arrivare puntuale la campana ad annunciare l'eliminazione sul prossimo traguardo. Viene eliminato la retta numero 123, eliminato la retta numero 123, che si deve perdonare. Campana di meno 40. Viene eliminato la retta numero 290 sul passaggio. Appena concluso, sarà il campana di meno 38 sul prossimo traguardo. Si ritira un atleta, salta quindi la prossima eliminazione, salta quindi la prossima eliminazione. e la prossima eliminazione sul prossimo traguardo. Vai Jackie! Suona la campana di meno 36. Salta l'eliminazione per il ritiro della retta numero 76. La campana sul passaggio di meno 34. Vai Jackie! ballad�って siinä! Sì! Sì! La campana, di meno 34, eliminazione sul prossimo passaggio. Il liminetto aspetta numero 31 L'atleta 31 deve fermarsi, campana di meno 32 L'atleta 652 nel San Mauro, fermarsi Siamo alla campana di meno 30 Viene a Monito l'atleta 465 L'atleta 465 è a Monito L'eliminazione di meno 29 in corso L'atleta numero 53 deve essere eliminato Campana di meno 28 L'eliminazione di meno 27 in corso L'atleta 586 nel Borromia ad abbandonare la gara Suona la campana di meno 26 All'aliminazione sul prossimo passaggio Viene eliminato l'atleta numero 300 L'eliminazione del Borromia L'atleta numero 300 calabassi Siamo alla campana di più E' alto di quattrogini al camere. Viene eliminato la veda numero 465. Viene eliminato la veda numero 465. Campana di meno 22 giri al termine. Lieve femmine immediatamente all'appello. Siamo in lineazione di meno 21, 919 eliminato. Siamo a meno 20 giri al camine, ancora 4 km da trascorrere sotto la pote per raggiungere la fine di questa gara. Siamo all'eliminazione del 19 ed è l'atleta numero 52 a dover salutare i compagni di Corsa Campana 2018 e si assottigliano giro dopo giro le fila. Siamo all'eliminazione del 19 e si combatte contro la fatica e contro il vento in questa gara. E' l'atleta numero 429 a fermarsi. Siamo alla campana numero 16. C'è una forte battuglia della squadra di casa a condurre in questo momento la gara. L'eliminazione del 19 in corso è l'atleta numero 424 a fermarsi. Campana di meno 14 giri al termine. E' l'eliminazione del 19 in corso è l'atleta 974 ad abbandonare. Campana di meno 14 giri al termine. Buona la campana! Eliminazione del 19 in corso è l'atleta 994. E' l'atleta 974 ad abbandonare. E' l'atleta 994 ad abbandonare. Buona la campana. Siamo all'eliminazione del meno 9. E' l'atleta numero 26 che si era già ritirato nel corso del giro. Siamo alla campana di meno 8. Attenzione a atleti, eliminazione del meno 7 in corso. Siamo all'eliminazione del meno 7. Attenzione a atleti, eliminazione del meno 7. Siamo all'eliminazione del meno 5. L'atleta numero 24. Siamo alla campana di meno 4. eliminazione numero 3 al passaggio mentre c'è da capo Tleta 2-7-7 eliminato 2-7-7 eliminato siamo all'eliminazione al passaggio eliminazione al passaggio Viene a monitor l'Atleta 970 eliminato l'Atleta 970 eliminato al passaggio precedente eliminato al passaggio l'Atleta 970 Rossi del passaggio Rossi del passaggio Rossi del passaggio Rossi del passaggio eliminato Rossi del passaggio Rossi del passaggio Rossi del passaggio